car art podcast mondiale rally edizione 1986 buongiorno a tutti bentrovati sempre da antonio e da emanuele oggi realizzeremo questo podcast perché abbiamo avuto tanti tanti commenti in tra i podcast precedenti sul mondiale rally del 1986 più specificatamente in merito al rally di sanremo è stato un rally molto particolare si è un rally particolare ma inserito in un contesto di quell'annata tra tragedie ed episodi politici che può essere definito quasi da film sì esatto infatti ripercorrendo un pochino tutte le tappe del mondiale rally 86 abbiamo un'alternanza tra i risultati vittoriosi della peugeot 205 turbo 16 e della lancia delta s4 si lancia delta s4 che era data per favorita durante per quell'anno solo che poi tutta una serie di eventi hanno fatto sì soprattutto alla fine dell'anno che tutto venisse ribaltato però è difficile spiegarlo così bisogna andare punto per punto per avere un'idea più chiara di ciò che è successo e allora partiamo 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 il mondiale rally è partito con rally di monte carlo classica prova iniziale dell'anno però nel corso dell'anno il primo grave incidente che fece capire che quell'anno non sarebbe stato un anno tra il livello normale venne appunto a rally del portogallo alla terza tappa della dell'annata ne avevamo già parlato in un altro podcast e la ford rs 200 di santos ebbe un incidente dove morirono tre spettatori e una trentina di persone rimasero ferite quindi diciamo che già alla terza tappa avvenne questo incidente che in qualche modo fece risaltare quel problema sicurezza che affliggeva le gruppo b si il gruppo b e non solo perché erano in programma anche il gruppo s negli anni a venire che erano ancora più performanti quindi il problema si era già già posto antecedentemente a questo incidente ancora più estreme si erano ancora più estreme quindi questo incidente fece capire che forse la strada non era quella giusta e questo fu solo l'inizio di quell'annata dopo qualche prova esattamente dopo due prove si corse il tour de course e avvenne un altro tragico incidente anche questa volta mortale toivano e cresto durante il tour de course fecero un incidente e morì il pilota e il navigatore in seguito a questo incidente la fisa presieduta da jean marie balestre decise di intervenire drasticamente imponendo nuove regole e la peugeot in qualche modo si risentì perché la peggio era il competitor principale della lancia e ciò aveva vinto anche in precedenza quindi più che competitor diciamo che era tra virgolette è brutto dire favorita ma comunque uno dei due grossi competitor per il mondiale giustamente dissero ma c'è una regola per la quale abbiamo bisogno di due anni di preavviso per cambi così importanti sull'organizzazione dei rally che gli investimenti esatto e non vennero rispettati perché venne deciso con la mannaia di interrompere il gruppo b gruppo b che però per quella stagione continua così con le regole in corso perché non si poteva finire la stagione di netto e scusami dicendo queste cose mi viene in mente poi alla fine troveremo appunto il bandolo della matassa però già qui questa protesta di peugeot a jean marie balestre per questa per questo mondiale per questo gruppo b chiuso così repentinamente può essere una ragione per la quale successe poi quel che successe comunque vabbè vogliamo essere maliziosi ci arriveremo ma innanzitutto prima di arrivarci ci mettiamo un po di malizia certo cercare di comprendere cosa sta per accadere probabilmente anche questo ha inciso su quello che poi è accaduto in seguito mondiale poi proseguì da sottolineare appunto anche la doppietta peugeot al mille laghi primo salone nel secondo cancunen dove marco allen che era la punta di diamante quell'anno della lancia il favorito per il mondiale certo uscì di strada durante l'ultimo giorno di gara quindi in quell'occasione lì visto i pochi punti che la lancia riuscì a portare a casa la peggio divenne campione del mondo costruttori con il campionato mondiale piloti però ancora da da segnare mancavano quattro tappe in quel momento quattro tappe quindi la costa d'avorio sanremo racrelli e olympus quindi usi la competizione nell'ambito piloti era molto molto aperta soprattutto tra cancunen e allen quindi poi costa d'avorio e poi rally di sanremo e qui c'è il capitolo principale dove si racchiude la parte più più importante interessante di tutta l'annata 1901 un romanzo nel romanzo praticamente sanremo si sa è uno dei rally più più belli e difficili del campionato del campionato del mondo rally e allen vuole sfruttare la gara di casa lancia per rosicchiare i punti a cancunen e riuscire a portare a casa almeno il titolo piloti e dare all s4 quello che di fatto non è mai riuscita ad avere purtroppo nonostante la nomea di di mostro di auto più evoluta alla fine non è riuscita a portare a casa nulla tornando nel merito del rally di sanremo il rally di sanremo era un rally molto particolare perché era misto asfalto terra quindi anche questo è da sottolineare le tre le tre s4 che correvano era ancora di biazion quella di allen appunto e quella di cerrato che aveva sostituito toyvonen morto in precedenza nel tour del corso mentre peugeot si presentava allo start con quattro piloti del calibro di cancunen sabi salone e danussi l'italiano danussi le peugeot partirono a razzo e danussi si portò direttamente al comando davanti al compagno sabi e amici biazion che era il primo delle s4 a lei in parte male però riesce pian pianino a recuperare nel frattempo ecco i primi colpi di scena si verificarono dopo prove poche prove speciali difatti sia sabi che danussi lamentarono problemi danussi problema la sospensione sabi forò così si ritrovò con biazion seguito da cancunen che poi quest'ultimo lo sorpassò in prova speciale durante durante la gara insomma quindi si arrivò la ventiduesima prova speciale con cancunen davanti al trio di s4 biazion cerrato e allen ventiduesima prova speciale e qui cominciano i problemi e la confusione di fatto le peugeot avevano avuto problemi per loro conto ma un errore dei cronometristi fa sì che si voglia annullare tutti i tempi chiaramente lancia martini non è d'accordo con questa decisione perché le peugeot avevano avuto problemi di conseguenza annullando i tempi venivano annullati i problemi tecnici che avevano afflitto le peugeot di conseguenza sarebbero state avvantaggiate la decisione in merito a cosa fare su questo annullamento dei tempi rimane in sospeso e quindi si arriva seconda tappa a siena con cancunen davanti a biazion e cerrato qui avvenne il secondo enorme colpo di scena perché la decisione di annullare la prova speciale non avvenne subito avvenne dopo il giorno di riposo ma non comportò solo l'annullamento della prova speciale ma anche tutte e tre le peugeot vennero squalificate perché per colpa delle minigonne che vennero ritenute parte integrante dell'effetto suolo che era vietato vennero tutte e tre squalificate dando un colpo di scena netto al proseguo del campionato in tutto questo jean tod non si diede per vinto che era il direttore tecnico della peugeot non si diede per vinto propose addirittura di sequestrare le vetture per verificare in galleria del vento che quelle bandelle quelle minigonne non avevano funzioni aerodinamiche ma erano solamente dei parassassi però anche qui di fatto non succede niente c'è una battaglia legale però in seguito a questa decisione lancia si trova in testa alla gara con un salto avanti riguardo al campionato non indifferente perché allen si rifà sotto a cancunen che era saldamente in testa ma non solo visto che verso la fine della campione della gara cerrato e biazion si trovavano davanti ad allen cetro e fiorio decise di far pagare una penalità a cerrato e biazion di fatto arrivano in anticipo all'ingresso della prova speciale quindi è una sanzione una penalità voluta diciamo voluta così da far passare davanti allen che può vincere il campionato del mondo 86 su lancia s4 si si riavvicina tantissimo a cancunen di fatti alla fine di quella gara allen si ritrovò a soli due punti da cancunen riaprendo totalmente campionato e facendo sì che le ultime due gare che mancavano fossero riaperte fondamentalmente esattamente la gara successiva la vince la peugeot mentre l'olimpus rally lo vince allen e quindi si laurea campione del mondo piloti su lancia delta s4 ma campione del mondo piloti fino a quel momento esatto perché dopo circa una settimana i famosi 11 giorni la fisa allora presieduta appunto da jamarie balestre si scusate bene si viene da ridere perché viene da ridere perché poi insomma riba l'estero gli anni 80 non ha torniamo al pensiero di cui prima che avevo messo la malizia ma forse un po di malizia ci stava tu mi vai a chiudere il gruppo b che ho dominato di fatto anche se adesso l'S4 si sta dimostrando al mio livello superiore a me perché di fatto ha vinto l'S4 con la squalifica delle peugeot a sanremo ma dopo 11 giorni quindi la fisa decise di annullare totalmente la classifica del rally di sanremo quindi non solo peugeot prese zero punti ma anche la lancia così facendo cancunen ripassò davanti ad alen laureandosi campione del mondo di quel campionato mondiale rally 1986 di fatto questo è questi sono tutti i motivi per i quali il campionato del mondo rally 1986 è stato discusso e a quasi 40 anni di distanza abbiamo visto con i podcast precedenti e gli altri contenuti che abbiamo realizzato quanto ancora ci sia voglia di parlarne e di recriminare su quel fatto che tutto francese diciamo che determinò la non vittoria della S4 che poi in effetti non ha più potuto correre perché nel gruppo b il gruppo b è stato chiuso sì e anche perché appunto jean marie balestre era diciamo anche col senno di poi abbastanza rinomato per avere un occhio di riguardo per tutto ciò che era francese diciamo che quel problema è sorto anche qualche anno dopo nell'89 quando ci fu quel problemino prost senna perché la fisa chiaramente si interessava e organizzava i rally ma organizzava anche tutte le altre competizioni ruote scoperte e quindi già nell'86 c'era stato questo intricato caso politico sportivo lancia peugeot balestre poi nell'89 ancora prost balestre senna se si vuole guardar male si può vedere può vedere tutto poi sai chi è in quella posizione nella posizione di decidere è una posizione scomoda certo però sorge spontanea la domanda peugeot e prost non fossero stati francesi e le scelte e le decisioni sarebbero state uguali? e non lo sapremo e non lo sapremo mai però fa parte della storia e questo mondiale rally 86 sembra quasi una sceneggiatura da film anche se è un film molto complicato eh sì esatto anche da spiegare da spiegare bene abbiamo voluto approfondire questo questo campionato del mondo perché abbiamo notato che c'era molto interesse verso questo speriamo di aver chiarito un pochino quelli che sono stati gli eventi principali che l'hanno caratterizzato anche a chi non non l'ha vissuto ci risentiamo al prossimo podcast grazie ancora per averci seguiti da Emanuele e da Antonio ciao ciao